È trascorso un anno dalla scomparsa di Adriana Sensi. La CGL ricorda una donna che è stata simbolo di una generazione e sintesi della storia economica e sindacale nella seconda metà del Novecento. Adriana Sensi era una ragazza che negli anni Cinquanta sognava di diventare semplicemente una sarta rifinita e che divenne invece la guida di 5.000 operaie, quelle della Lebole, di un grande sindacato di categoria. Una donna, Adriana Sensi, che dedicò la sua vita al lavoro e alla tutela dei diritti di chi lavora. Dirigente della CGL e poi dello SPI, infine la passione e la dedizione all'Auser e al volontariato ci ha lasciato, ricorda la CGL, un anno fa, ma è ancora forte in chi lavora e in chi lotta il ricordo della stessa Sensi.